Amici di TV Gargano, Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con TV Gargano Salute che come ormai sapete va in onda settimanalmente sulla nostra emittente televisiva di TV Gargano. Si tratta appunto di un programma ideato da Luigi Mossuto, storico conduttore della predetta emittente televisiva e condotto dalla sottoscritta Giulia Rita Donofrio. Questa sera nei nostri studi, vado subito a presentarvela brevemente, abbiamo la dottoressa Nella Formica, farmacista. Nel 2005, o meglio rettifico nel 2015, il marito della presente ospite Luigi Villani acquista quindi la farmacia che è a San Marco Illamis, la farmacia Padre Pio, e da lì poi seguono un susseguirsi di successi che riguardano una interessantissima pubblicazione annuale di un calendario ormai diventato storico, una delle colonne portanti della struttura e non da ultimo all'interno della stessa ci soffermeremo anche su questo particolare che ha stuzzicato notevolmente la mia curiosità e credo anche quella dei nostri amici telespettatori di una biblioteca all'interno sempre della struttura. Tutto ciò naturalmente si lega alla passione ed amore che la qui presente professionista e i suoi collaboratori nutrono per il proprio lavoro. Bene, dottoressa, capiamo adesso un attimino come si sia evoluta la farmacia e soprattutto come si è cambiato il ruolo della figura del farmacista nel tempo. Intanto grazie dell'invito. Grazie a lei. Grazie. Allora, sì, nel tempo la farmacia ha subito un profondo cambiamento. Molto probabilmente questo è iniziato con l'avvento della telemedicina in farmacia, quindi parliamo del servizio ECG, oltre cardiaco, oltre pressorio. È continuato questo cambiamento, soprattutto durante il periodo Covid, che in qualche modo ha determinato la farmacia come primo presidio sanitario. Questo cambiamento sta ancora continuando, ma questo è dovuto soprattutto al fatto che molto spesso per poter accedere a dei servizi a livello anche ospedaliero ci sono delle file immane, per cui c'è stato un decentramento dei servizi dall'ospedale alla farmacia. Questo naturalmente ha portato a un cambiamento del ruolo del farmacista, perché oggi non è più un semplice erogatore di farmaci prescritti dal medico. Oggi il farmacista deve essere la parte attiva della sua farmacia, quindi deve essere un promotore della salute, ma soprattutto deve essere un promotore della prevenzione delle malattie. Quindi questo è sicuramente il grande cambiamento che la farmacia sta vivendo. Ormai la farmacia è farmacia dei servizi. Bene, servizi a 360 gradi che appunto la struttura sicuramente presterà. E a questo punto, visto che abbiamo fatto riferimento alla parola servizi, che tipo di servizi, lei ne ha già citati qualcuno all'inizio del nostro colloquio, quali servizi appunto essa offre e deve offrire? Allora, intanto la farmacia offre dei servizi rapportandoli anche allo spazio che ha a disposizione, perché non è così semplice. Cioè bisogna comunque far riferimento a quelle che sono, alla legislazione, quindi gli ambienti devono essere salubri, cioè ci sono una serie di condizioni. Però io penso che una farmacia minimo, ecco, deve offrire una telemedicina e le analisi di autocontrollo di primo accesso, quindi parliamo di colesterolo, trigliceridi, glicemia. Quindi questi sono i basilari. Certo. Poi ci ve ne sono altri unitamente a questi servizi primari, fondamentali. Allora, noi intanto abbiamo avuto una sorta di cambiamento da quando abbiamo acquistato la farmacia, perché nell'aprile del 2023 abbiamo effettuato un ampliamento. In realtà è stata messa a disposizione un'intera palazzina alle nuove esigenze del paziente. Quindi non soltanto della comunità san marchese, ma anche di tutte le zone limitrofe. I servizi col framo sono veramente tanti, proprio per far fronte a tutto ciò che viene richiesto oggi all'interno della farmacia. Quindi parliamo, abbiamo attivato il sistema CUP, abbiamo praticamente delle analisi che oggi fino ad adesso non si vedevano in farmacia, quindi ad esempio il dosaggio della vitamina D, la possibilità di effettuare il tampone dello streptococco, del pneumococco, quindi per vedere un attimino dei batteri a livello respiratorio, il test sulla clamidia, quindi un'infezione vaginale, l'intolleranza alimentare, dove c'è un referto vero e proprio medico firmato da allergologi. In più ci sono una serie di giornate che noi mettiamo a disposizione anche in forma gratuita al paziente, in modo tale da poter proprio svincolarsi da quelle che sono le lunghe file che abbiamo poc'anzi detto. Considerate che nella nostra struttura quindi c'è una sorta di prevenzione nelle malattie cardiocircolatorie, neurologiche, ma soprattutto... Ah, ok. Ah, ok. Ah, no, io pensavo che il... Allora, noi cerchiamo di effettuare una sorta di prevenzione nelle malattie cardiocircolatorie, nelle malattie tumorali, nelle malattie neurologiche e pneumologiche, con tutti i servizi. Non da ultimo abbiamo un servizio molto bello, perché abbiamo un piano dedicato totalmente a un reparto beauty, dove è possibile effettuare dei trattamenti, non soltanto legati strettamente alla bellezza, ma anche a trattamenti puramente legati al benessere. Ad esempio, in caso di insufficienza venosa, quindi riusciamo ad effettuare un drenaggio dei liquidi accumulati a livello linfatico, riusciamo a trattare dei problemi a livello di cervicale, quindi con delle guandi elettroconduttivi, così come delle contratture generali. In più, la nostra farmacia, devo essere sincera, è riuscita, e ogni anno questo lo facciamo, a stringere dei forti legami con le aziende più importanti all'interno dei farmaci che ci sono, in modo tale da poter ottenere non soltanto quelli che sono gli studi scientifici e quindi avere degli aggiornamenti, ma sicuramente anche dal punto di vista, diciamo così, avere delle agevolazioni che poi riversiamo totalmente sul nostro paziente finale. Permettimi di dire, Giulia, una cosa, per tutti coloro che vorranno in qualche modo accedere a un qualsiasi tipo di trattamento, lo può effettuare in forma gratuita, quindi a una prova gratuita all'interno della nostra farmacia. Bene, mi raccomando, quindi cogliete al volo una delle tante opportunità che la struttura offre, come sta in maniera appunto egregia e minuziosa, raccontandoci la nostra professionista, a cui volevo chiedere, o meglio lì già si è addetto a 360 gradi, dei servizi offerti dalla farmacia, il particolare della biblioteca all'interno. Ecco, trattasi di che tipologia di biblioteca, che libri? Allora, intanto noi abbiamo effettuato l'inaugurazione proprio a dicembre ed è stato un evento... Recentissima, quindi, recentissima. Ed è stato un evento veramente bello, un evento culturale. Abbiamo, ci sono state un paio d'ore dove sono intervenuti, presidi, professori, medici, che ci hanno dato proprio una, diciamo così, una sorta di accoglienza anche loro, molto molto bella. La biblioteca, noi siamo forse una delle poche farmacie in tutta Italia. Certo, probabilmente. Sì, c'è una sorta di raccolta di tutti gli autori del territorio, perché io lo devo dire, San Marco è veramente un territorio ricco di cultura, dove ci sono veramente grandissimi scrittori. Quindi la biblioteca, diciamo così, ha solo questi libri per adesso. Molti ci sono stati donati, molti sono stati acquistati e si accede come una vera e propria biblioteca. Quindi chiunque volesse può ritirare un libro per poterlo ecco leggere e poi viene riconsegnato. Tutto in forma gratuita. Bene. Credo, insomma, che abbiamo condensato tutto in questa nostra interessante chiacchierata con la dottoressa Nella Formica, farmacista, ricordiamo, titolare della farmacia Padre Pio in San Marco, in Lamis. Ringrazio la dottoressa. Grazie, grazie a voi dell'accoglienza, grazie. Grazie a lei per questo interessante spazio appunto sulla figura e sui servizi che una farmacista e una farmacia possono offrire e con TV Gargano Salute, ringraziando tutti coloro i quali hanno seguito questo appuntamento, vi do naturalmente appuntamento la prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.